Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi, in questo nuovo video vi spiego come risolvere il problema riguardo a che servono componenti per eseguire il programma tipo il gioco o un programma qualsiasi, un'applicazione e serve soprattutto il Microsoft Visual C++ Runtime. Ovviamente in questo tutorial vi spiego come scaricare i programmi di Microsoft Visual C++ e il DirectX Runtime per la scheda video, quindi sono solamente supporti per la scheda e per tutto il sistema operativo. Quindi in questo caso in descrizione ti ho lasciato due link che ti serviranno per scaricare questi software e andiamo direttamente su questi link, download più recenti e supportati, abbiamo il Visual Studio 2015, 2017, 2019 e 2022. Ovviamente io ti consiglio di scaricare quello dal 2013 fino al 2022, quindi iniziando dal 2013 e vedere se posso supportare questo software. Quindi architettura per il 86 e per il 64, ovviamente per il 64 sono per i sistemi operativi a 64 bit, per il 86 a 32 bit il sistema operativo. Ovviamente tu puoi scaricarli tutti e senza problemi, quindi io scarico questo, scarico quest'altro, ok abbiamo scaricati questi due drive. Torniamo indietro e andiamo su Visual Studio 2015, 2017, 2019 e il 2022, ovviamente il supporto per il 23 e il 24 ancora non ci sono, quindi dobbiamo arrangiarci con questi software. Quindi scarichiamo l'ARM64 per 86 e il per il 64. Una volta fatto chiudiamo questa scheda e scarichiamo il DirectX and Use Runtime, questo qua. Scarica, mettiamo la nostra lingua e facciamo desktop, su desktop salviamo. Chiudiamo Chrome, comunque l'errore è questo qua. Prendiamo tutti i nostri software, eccoli qua tutti, eccoli. Facciamo, evidenziamoli tutti e segui come amministratore. Ripariamo, io adesso devo aprirli tutti, riparo pure questo, li sto aprendo uno alla volta, ok apro pure questo, ripristina, faccio sì pure questo. Tutti, dovete scaricarli e installarli tutti. E poi c'è il Microsoft DirectX, tutti i driver, tutti i software che servono per eseguire il programma e eliminare una volta per tutte questo errore. Accetto il contratto, installa Bing Toolbar, no è un motore di ricerca, facciamo avanti e installiamo. Abbiamo messo in atto tutti, ok, questo è stato installato correttamente, è necessario avviare il computer, questo non ha potuto installarlo, perché non supporta il tipo di processore. Quest'altro modifica installazione è fatta bene, ok ripristina, facciamo fine. E chiudiamo qua. E aspettiamo che l'ultimo software si sia installato. Quindi, se questo video ti è stato utilissimo su come risolvere l'errore che servono questi software per eseguire il programma che hai avviato, oppure il gioco, ovviamente mi è successo questa cosa con Ready or Not. Questo qua. Oppure con altri giochi. Quindi, grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ovviamente, una volta fatto tutto, devi riavviare il tuo PC. Chiudi qua. I link stanno in descrizione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.